Sanctis, si parla della reindustrializzazione della zona di Bussi e a proposito di questo voi avete fatto degli esposti alla Procura della Repubblica di Pescara, dell'Aquila e anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Perché? Anche all'autorità anticorruzione, perché si va verso un accordo di programma che è una follia, è un vero e proprio pacco per i cittadini perché l'area industriale diventerebbe pubblica, cioè uno dei siti più inquinati al mondo da una multinazionale che è Solvè passerebbe alla proprietà del comune di Bussi, un comune di 2.500 abitanti, e cioè i veleni diventano pubblici. Infatti l'accordo prevede che una parte dell'area interna, l'area industriale, venga coperta da cemento, cioè sostanzialmente i veleni diventati pubblici poi vengono anche tombati e sopra ci si costruirebbe una fabbrica di un'azienda del nord che verrebbe di un ex senatore leghissa che verrebbe a investire qui. Ora dall'altro lato non si tocca la mega discarica di Bussi, è fuori dall'accordo di programma. Infine nell'esposto abbiamo evidenziato anche una posizione di possibili conflitti di interessi del direttore generale del ministero dell'ambiente Gaia Checucci che fino a pochi mesi fa era nel consiglio di amministrazione di una società privata riconducibile al gruppo Suez, la quale collabora in varie parti del mondo, compresa l'Italia, con Solvè che è uno degli attori del sito di Bussi.